Buongiorno a tutti e benvenuti a Nego Kuraku. Quest'oggi sarà la terza puntata della rubrica I Capolavori Manga. E per la terza puntata di questa rubrica ho deciso di parlare brevemente di Lone Wolf e Cub. Lone Wolf e Cub, Kodure Okami, il titolo originale giapponese, che è un manga seinen, un Gekiga, scritto e pubblicato in Giappone dalla Futabasha nel 1970 in 28 volumi. Quindi questo ovviamente è il primo di quelli pubblicati in Italia dalla Planet Manga nel 2004 e faccio vedere solamente il primo e l'ultimo ovviamente. Il primo è quello lì e l'ultimo è questo qui, il volume 28. Questo è un manga pubblicato appunto in Giappone nel 1970 e scritto da Kazuo Koike, che è uno dei più grandi scrittori di manga e sceneggiatori giapponesi viventi. e dalla cui scuola manga, tra l'altro famosissima scuola manga di Kazuo Koike, sono usciti autori del calibro di Rumiko Takashi, famosissima in Italia per Lamu, Maisonikoku e tantissime altre opere, e Tetsuho Ara, famoso più che altro per Kenny il Guerriero. E Kazuo Koike, oltre ad avere appunto questa famosissima scuola di manga in Giappone, è autore di tantissime storie del mondo manga, tra l'altro moltissime conosciute anche in Italia, come Crime Freeman, che è la più famosa, da cui è stato tratto anche un film, Offered e White Hair Devil. E a co' di uvare nella scrittura di questo manga, Kazuo Koike, c'è il disegnatore Goseki Kojima, che è un po' meno conosciuto in Italia, nonostante la sua brillante carriera, si componga di tantissime opere di elevato spessore, come Anzo, che in Italia è stato pubblicato in parte dal Planeta dei Agostini, e che sarebbe bello se qualcuno recuperasse, e Samurai Executioner, scritto anch'esso insieme allo stesso Koike, ed annunciato dalla Goen ormai un paio d'anni fa. Oltre a questo, Kojima è anche l'autore, il disegnatore, di Lady Snowblood, che sarà pubblicato in Italia dalla J-Pop. Come Lady Snowblood, Law of a Cab è una storia di vendetta, una storia di vendetta, di cui è piena la storia giapponese dei manga, di storie di questo tipo. Chi ha visto Kill Bill sa cosa aspettarsi da manga tipo Lady Snowblood, e quindi di conseguenza anche l'On War of a Cab, anche se ovviamente sia Lady Snowblood che l'On War of a Cab non sono ambientati ai giorni nostri, come Kill Bill, di Quentin Tarantino. Tra le altre cose, Law of a Cab ha avuto un successo strepitoso, che ha ispirato la creazione di diversi film e serie tv, un videogioco, e tra l'altro contribuì molto a rafforzare l'immagine nazionalistica del Giappone al di fuori dei suoi stessi confini, specialmente negli Stati Uniti, dove questo manga ebbe un successo strepitoso, tale da far sì che le copertine della stessa edizione americana di Lone Wolf e Cab fossero disegnate da maestri del comics americano, tra cui Frank Miller, Bill Sienkiewicz e Matt Wagner. Frank Miller ha disegnato la prima parte delle copertine, e poi per gli altri autori si sono succeduti nella creazione delle copertine di quest'opera. E anche questo ha contribuito al suo successo all'estero. La trama di Lone Wolf e Cab è abbastanza lineare, è abbastanza semplice anche, direi, come dicevo prima, è una storia di vendetta, ci troviamo nel XVII secolo in Giappone, quindi in pieno periodo feudale, dove si moriva di fame ogni giorno, soprattutto per quanto riguarda i poveri contadini e la gente meno abbiente. Il samurai Ogami Itto ricopre una carica molto importante, che è quella di Kogika e Shakunin, ovvero il boia dello shogun. In pratica, quando si solleva far fare il seppuku ai traditori della Malvarosa, quello era lo stemma dello shogun della Malvarosa, e così venivano etichettati coloro che, appunto, ordivano delle trame proprio nei confronti dello shogun, Ogami Itto era colui che era incaricato di tagliare la testa dopo che il condannato al seppuku si era squarciato il ventre. Proprio quando Ogami Itto è al massimo della sua carriera come Kogika e Shakunin, la potente famiglia degli Iagyu ordisce un piano molto subdolo per cercare di rimuovere Itto dalla sua stessa posizione. Nel far ciò uccidono anche sua moglie. Da quel punto Ogami Itto, che è stato privato della sua dignità e un po' del suo spirito da samurai, anche perché appunto costretto a vendicarsi e ovviamente a lasciare la carica di Kogika e Shakunin per colpa degli Iagyu, viene costretto al seppuku dallo shogun proprio per questo piano di tradimento organizzato dagli Iagyu. Itto però decide di ribellarsi e quindi di non mantenere fede a quelle che erano le regole principali dei samurai e quindi sceglie la via del Meifumadu che sarebbe l'inferno secondo la visione buddista. Diventa Orronin, un samurai senza padrone insieme al figlioletto di soli tre anni decide di andare appunto a giro per il Giappone e prendersi la sua vendetta contro l'Iagyu dopo essere diventato un assassino a pagamento. Diventa un assassino a pagamento proprio per raccogliere soldi necessari a compiere la sua vendetta. E da qui ovviamente viene poi il nome il lupo solitario del suo cucciolo con cui Itto e suo figlio Daigoro verranno riconosciuti in tutto il Giappone da chi li vuole ingaggiare. Ovviamente nella sua missione di vendetta Ogami Itto troverà ogni giorno degli ostacoli all'apparenza insormontabili però la sua abilità con la spada riuscirà sempre a portarlo ad andare avanti grazie anche a suo figlio che coprirà un ruolo fondamentale nell'opera tanto che spesso e volentieri verrà usato dal padre proprio come arma in più per vincere gli scontri e anche lui stesso si butterà nella mischia diverse volte proprio per aiutare il padre. E quindi tutta l'opera tutto l'arco dell'opera dei 28 volumi sarà incentrato su Ogami Itto che cercherà di rintracciare il capo degli Yagyu e quindi cercare di compiere la sua vendetta. Il disegno di Kojima potrebbe essere leggermente indigesto per qualcuno specialmente per chi non è abituato comunque ad un certo tipo di disegno se vogliamo più vintage più ovviamente passato se così si può dire anche perché comunque è un manga del 1970 piacerà a chi ha letto le opere di Sanpei Shirato a chi comunque apprezza anche lo stile di Kojima che magari potrebbe aver visto anche nelle altre sue opere personalmente è uno stile che a me piace molto e rende benissimo comunque l'idea di crudezza propria di quel tipo di manga ambientati in quell'epoca un'epoca dove appunto si moriva di stenti ogni giorno l'edizione della Planet è accettabile è una normale edizione da edicola senza sovraccoperta abbastanza pagina a colori abbastanza buona resistente forse più di quelle che fanno adesso e l'unica pecchia che ho trovato è che ho trovato un volume fallato nella nella collezione dove è appunto ripetuto un capitolo per due volte quindi manca un capitolo ovviamente non si può fare la sostituzione perché è chiaramente esaurito e quindi c'è questo piccolo difetto dovrò cercare di recuperare quel volume magari a qualche fiera dell'usato quindi per quanto riguarda appunto lo Waffle Cub è tutto lo consiglio a chi è amante dei manga storici giapponesi dei samurai della cappa e spada così sono chiamati anche i film d'azione giapponesi e sicuramente non a chi si nutre principalmente di battle shonen e senza leggere altro fatemi sapere voi cosa ne pensate se lo avete letto se avete intenzione di leggerlo comunque quali sono i vostri pareri condividete il video se vi è piaciuto raggiungetemi alla pagina facebook di cui vi lascio il link qui sotto che è NeoConRakubaiKirio dove vengono integrate notizie vengono pubblicati i video e tutto il resto e mettete mi piace al video se vi è piaciuto e fatelo girare un po' così che possa avere un po' di visibilità su youtube che ha un po' cambiato le regole ultimamente e quindi bisogna far girare proprio per far girare i video che che spesso non vengono pubblicizzati a dovere è davvero tutto quindi spero che il video vi sia piaciuto e comunque fatemelo sapere qui sotto ci vediamo presto e ciao